Trovare le parole resta sempre difficoltoso in momenti come questi. Questa mattina nella chiesa della collegiata Castiglione Fiorentino si sono svolti i funerali di Romano Marchesini, l'ex corridore arrivato a competere tra i dilettanti che ci ha lasciato all'improvviso venerdì scorso mentre era a fare la sua uscita di allenamento con la bici. La notizia della sua morte ha lasciato un grande senso di vuoto. Romano è sempre stata una persona che non si è mai tirato indietro e che per il ciclismo ha dato tutto. Gli amici di sempre, quelli soprattutto nel suo mondo, hanno mostrato affetto e solidarietà alla famiglia, al fratello Maurizio, al nipote che da poco ha lasciato l'attività su strada per salire, sull'ammiraglia alla sorella Katia che per anni è stata giudice di gara. Era presente anche il sindaco di Castiglione Fiorentino, Mario Agnelli, che è stato il primo a sapere del dramma, visto che i soccorritori, non trovando il documento, hanno scoperto il suo nome come primo numero registrato nella rubrica telefonica. Da rimarcare il gesto di tanti ciclomatori che nella giornata di domenica lo hanno omaggiato alla Camera Mortuaria.